Dopo aver visitato questo luogo ci portano in un impianto che veniamo poi a sapere che è l'impianto missilistico più importante dei russi con dei missili puntati verso l'America e noi tranquillamente abbiamo filmato perché nessuno ci diceva di far diversamente dalle parabole a tutto quello che abbiamo incontrato. A un certo punto mentre eravamo nell'interno della mese ci stavano offrendo del tè arriva una telefonata e improvvisamente ci sbattono letteralmente fuori senza avere la possibilità neanche di finire di bere il tè. Siamo stati ricaricati sul pullman ci riportano velocemente a Pevec dove ci hanno arrestato e ci hanno arrestato perché il locale KGB non sapendo della nostra visita aveva scoperto che dei civili erano finiti in un impianto missilistico per entrare in quell'impianto ci voleva il permesso del presidente della Russia, del capo del gabinetto delle forze armate e del ministro della guerra, il che non è poco e noi ci siamo andati tranquillamente.